Sandro Sallusti, anche l'opposizione in Italia sembra abbastanza soddisfatta di quello che ha fatto il governo Conte oggi. Certo, la Meloni ha detto che è un primo cerotto, ci vuole altro, Salvini ha detto che non basta, ci vuole altro, ma probabilmente è quello che deve dire l'opposizione, no? Penso proprio di sì, bisogna dare atto che il governo ha fatto il massimo che poteva fare, 25 miliardi, attenzione, sono in debito e per un paese indebitato come il nostro, come ha detto Massimo, non sono pochissimi, anzi sono tanti, e li ha messi tutti in un colpo solo. Una prima ipotesi era di diluirli un po' alla volta e vedere cosa succede, sarebbe stato un disastro, invece hanno avuto coraggio, li hanno messi come puntare tutto sul numero e sperare di vincere, anche perché dubito che ce ne daranno o che ne avremmo altri 25, essendo tutto in debito. Oggi però non è una giornata bruttissima, perché per la prima volta a titubare non è il governo, ma è il virus. Dentro numeri che restano drammatici, però per la prima volta non c'è una crescita esponenziale, ma una crescita lineare. Questo per certi versi fa ben sperare. Della manovra di oggi dico solo una cosa, che hanno fatto bene, sono stati bravi, potevano non fare la furbata di annunciare che si possono non pagare le tasse al pomeriggio del giorno in cui molti italiani le avevano pagate al mattino, perché oggi è giorno di pagamento fiscale. Questo lascia aperto il sospetto che hanno portato a casa qualcosa all'ultimo secondo, perché avrebbero potuto tranquillamente annunciarla ieri questa manovra.